Come va? Tutto bene? Bene, bene. Sei arrivata bene? Sì, sì, sì. So che sei stata già ad Ascona... A Ascona Jays? Sì, sì, è stato bellissimo. Poi in quel periodo Ascona si trasforma veramente in un posto... Sembra di essere veramente altrove. È New Orleans, sì, veramente. È stupendo. Allora, Simona, tu hai cominciato a cantare da bambina in chiesa. Ma poi, dalla musica religiosa... Sei passata alla musica medievale. Sì, ma facevo il coro della chiesa, il classico coro della chiesa. Musica medievale in realtà sì, perché vennero a scuola, facevo la seconda elementare, e selezionarono un po' di ragazzi per un corso di canto. E io veni scelta. Quindi iniziai questo corso, e da dove abitavo all'Aquila, l'Aquila è una città medievale, e quindi la musica che si faceva in questo posto era musica medievale, le cose un po' particolari. È bellissimo. E ti piaceva molto farla? A me piaceva, perché a me piaceva proprio la musica, cioè in qualsiasi forma e colore. Poi, piano piano, ho scelto la mia strada. E sei felice di questo? Assolutamente. Perché abbiamo poco tempo, ma avrei da chiederti tutto sul mondo medievale, un sacco di cose, perché sono molto appassionato. Adesso proprio, se ho iniziato a otto anni con la musica medievale, poi a nove ho finito con la musica medievale. Hai duettato con Peter Sincotti. No, scusa, Sincotti. Sincotti o Cincotti, diciamo. Esatto, lì come lo dici? Si può dire in entrambi i modi, perché in realtà suo nonno era italiano, quindi in America dicono Sincotti, e qui diciamo Cincotti, e lui accetta sia l'uno che l'altro. Ok, e dovessi scegliere un altro artista internazionale, con chi è che ti piacerebbe duettare? Beh, non so, forse un musicista, quindi se dovessi scegliere un musicista, magari per rimanere sempre in otti, un Chris Botti. Ok, perfetto. Ok. Quindi non cantanti. Ah, guarda, in questo momento mi piacerebbe proprio veramente qualcosa del genere, sì, si fa un duetto con un musicista forte. Forte. Ma adesso tu, cioè, nel senso anche in chitarrista? Ah, sì, sì, sì. Adesso mi è venuto in mente Chris Botti, perché poi si avvicina un po' a quello che vorrei fare, al disco che sto pensando di fare. Quindi mi piacerebbe, sì. Ma chi lo sa? Chi lo sa. Tu puoi essere. Sì, esatto. Diciamolo, siamo qua. Eh, infatti, diciamolo. Facciamo un appello. Sì, esatto. Chris. Simona, tu giri il mondo con i tuoi concerti, sei anche stata in Cina. Sì. E sappiamo che per l'occasione tu hai imparato un'aria della Carmen in cinese. In cinese, sì. Ti ho messo un mese. Ma ce ne fai ascoltare un pezzettino? Ok, così, senza musica, così. A cappella. Sì, sì. È più bello? Guarda, la prossima volta ci organizziamo meglio con tutta l'orchestra, esatto. Questa volta ti diamo quello che abbiamo. Il testo è molto particolare, appunto, in cinese. Quindi faceva tipo... Oh, bellissimo! Ho anche adesso anche il taglio un po' Cina. Sai anche il look. Il look un po' Cina, sì. Un po' Cina.